Siamo con il coach della Valentina Sbottigone, Maurizio Milani. I gialloneri hanno da poco ripreso gli allenamenti. Maurizio, come trovate i ragazzi? L'ho trovato bene. Diciamo che sono arrivati piuttosto preparati e piccato con tanta voglia di fare. Li vedo concentrati, anche la parte atletica è importantissima. Sono contento. Il gruppo è praticamente rivoluzionato. Cosa ti aspetti da queste prime settimane di lavoro? Cercherete di trovare la giusta amalgama? Sì, certo. Ora stiamo iniziando a conoscersi. A conoscersi fuori dal campo e in campo. Il domenica abbiamo già la prima amica che voleva un guardata che sarà ovviamente un test proprio per una sgambata, diciamo così, perché andremo lì con un movimento e un po' più. Però l'importante è ora, è iniziare a conoscersi in campo. Ci vorrà un po' di tempo. Chiaramente il gruppo è molto il nuovo. 7 su 12 ci sono giocatori nuovi. Cosa vedi nel futuro della Valentinas? Abbiamo una squadra che spero abbia le caratteristiche per cui l'abbiamo costruito. Cioè una squadra aggressiva, difensivamente, una squadra che non molla mai, che dovrà trovare il modo comunque di uscire fuori anche da situazioni difficili. Credo che il carattere dei giocatori e il talento anche. I giocatori che abbiamo in squadra quest'anno sia con queste caratteristiche. Quindi una squadra guerrita non sarà facile vincere un potecone. Questo deve essere un po' il nostro punto di riferimento.